Buongiorno a tutti ed eccoci qui un nuovo video su Pavoni Ingrifati e su Champions League Manager 2003-2004 Oggi puntatona molto molto importante perché affrontiamo l'Inter che viene da noi, viene a Genova fortunatamente Quindi ce la giochiamo in casa ma comunque è contro la prima in classifica o la virtuale prima in classifica Dopo vi faccio vedere la classifica, questo è il sorteggio della Coppa UEFA intanto che giocheremo noi Andiamo a vedere il sorteggio, la cazzo è sta roba, turno, eccoci qua Ovviamente sono così tante squadre che farò il sorteggio veloce, vediamo un po' contro chi siamo L'Hamburgo, tostissima, L'Hamburgo, L'Hamburgo Che è, andiamo subito a vedere un attimo com'è così ma veloce Cazzo c'è Piskuliski, l'ho avuto in una stagione perché è giovane, non è male Poi c'è Cristian Ledesma, altri giocatori famosi, vediamo un po' Beh c'è Barbares, ma che non è così famoso Ushvalugi, che diciamo in Serie A, Ushvalugi ha giocato, ve lo ricorderete dalla Fiorentina Ilmaz, non è quell'ilmaz dell'attaccante, è anche qua un portiere Altri giocatori che hanno giocato Eh? 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 Biava? Biava? Non era quello del Palermo che ha fatto quel gol a Scorpione Grandissimo Biava Ma si chiamava Fabrizio, non mi ricordavo che si chiamasse Fabrizio Dopo controllerò Comunque questa è la squadra Vediamo un po' Barbares com'è Sinceramente non è così forte Non è così forte anche se mentalmente è una belva Eh? Perché ha 33 anni, ecco perché Poi magari ci sono altri giocatori che non mi sono accorto Che sono molto famosi Comunque non è una squadrona L'Hamburgo in quegli anni non lo era, effettivamente La Germania di per sé non lo era Se togliamo il Bayern e il Dortmund un po' Eh? Quindi possiamo anche farcela Possiamo anche farcela Il Palermo giocerà col Brescia Che sfortuna Cioè, derby d'Italia Il derby d'Italia, diciamo, non è proprio il derby d'Italia Ma in Europa è un derby Athletic contro la Roma E poi basta, siamo noi le italiane presenti La Lazio? Eh no, in Champions Allora vi farò vedere anche i gironi della Lazio Per poi entrare nel clima partita Dove affronteremo l'Inter Ecco qui i gironi con l'Inter Che quasi quasi faceva punteggio pieno nel girone Con 16 punti Con 17 gol fatti e 5 gol subiti Arsenal è passato col Dortmund Arsenal, Dinamo, Kiev Barcellona, Lazio Lazio solo 11 punti Ma bastano, avanzano Bayern, Real Societad Il Chelsea ultimo, clamoroso Perché l'anno scorso in questo gioco ovviamente In questa stagione Ha vinto la Champions League E invece qua esce dall'Europa Incredibile Ed è secondo in Premier League Follia Bayern e Real Societad Ah no scusate Il Chelsea-Glasgow Primo posto E Austria-Vienna secondo E Porto E Monaco Che probabilmente non è il favorito E forse un po' col Celtic Passano il turno Incredibile Olinq-Parsiglia E Real Madrid Real Madrid da secondo Molto strano Milan e Manchester United Passano il Milan da primo posto E Newcastle e Juventus passano E poi si affronteranno A febbraio ovviamente Eccoli qua Milan contro Real Madrid Bellissima Lazio-Arsenal Real Societad Inter e Juventus Celtic-Glasgow Non semplice Sfortunato il Milan Soprattutto che era di prima Passato per primo Roma batte il Parma 3-1 E la Roma passa al primo posto A sorpresa Sembra un discorso da due Pochi giorni fa Poche settimane fa E invece ora anche la Roma E la Lazio stanno insinuando L'Inter però A due partite meno E noi ne abbiamo invece una Panico e paura Panico e paura Napoli-Atalanta E poi Saremo Toccherà noi Con Chi squadra siamo noi Sampdoria Ecco Sampdoria-Inter Brividi Eccoci qua Si gioca Di pomeriggio Non di sera È un match come gli altri Quanto pare Ma non lo è veramente Perché È tra la seconda e la terza Ma vincendo Chiunque vinca Andrebbe al primo posto E l'Inter vincendo Poi potrebbe fuggire via E andare in virtuale Anche più 6 Da noi Vedremo Noi non vogliamo mollare Un bel cazzo Andiamo a vedere La formazione Dell'Inter L'Inter arriva Dalla vittoria In Champions Quindi sarà un pochino Stanca magari E vediamo un po' Gioca col 3-4-3 Di Cooper Immagino Si è ancora Nella torre Dell'Inter Con Barry Garrett Barry Cordoba Cannavaro Barry probabilmente Ha acquistato quest'anno Kili Gonzalez Emre Nakata Ha acquistato anche quest'anno E Javier Zanetti In attacco Recoba Vieri E Callon Questa è la formazione Con Materazzi Infortunato E Van Der Meyde Non neanche in panchina Ma stranamente Van Der Meyde Nel gioco è fortissimo Come lo era anche Un po' nella realtà Vi ricordate per le sue esultanze Dove Dove sparava Con il Fucile E Bresce Scarsissimo Martins In panchina Helweg Che poi giocherà Anche nel Milan Cordaz Lasciamo perdere Poi qua Molti giocatori Sconosciuti come Ricketts Carignano E poi Alberoni Ma penso che sia Della primavera Alcuni C'è ancora Scarpi Che ha 31 anni Non è ancora così vecchio Comunque Trasferimenti Vediamo un po' Con Barry Che arriva appunto Dalla Stonevilla Che era una bandiera Della Stonevilla Barry Pensate un po' Senza Libero Pensate un po' Caldwell Pure lui è libero Ma incredibile Ma che cazzo Da Newcastle Eh si Carignani Carignano E' un giocatore Sconosciuto Che arriva Al Colón Nakata Famosissimo Invece dal Parma Ben 15 milioni e mezzo Spesi Vediamo un po' Chi ha venduto Ha venduto Vabbè Libero 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 Qua Costo Perché non si può mettere In ordine di costo Vabbè C'è uno del Farinos Per quasi 15 milioni E una vergogna Il Midasbrak Poi c'è Dalma Per 2 milioni e mezzo E per 2 milioni e sette Al Meda Al Napoli Ha fatto un gran Gran calcio mercato L'Inter Gran calcio mercato E i risultati si vedono Tocca a noi adesso Allora Probabilmente giocheremo Con la stessa formazione Che ha perso contro la Lazio Se non magari Per qualche Cambio Vediamo un attimo Zilkovic Domizzi Falcone Zenoni Gasbarroni Volpi Palombo Grosso Kakalov Todorov Si giocheremo così Ragazzi La formazione è quella che è Lo so Abbiamo dei punti deboli Ma Fino adesso abbiamo fatto sempre bene Pronti A Sampdoria Inter Il match che vale Il Il primo posto in classifica Pronti Partenza Si parte Batterà l'Inter Il calcio inizio Arbitro è Rodomonti Nakata Ruba subito palla Kili Gonzales Kili Gonzales Tenta il tiro Fuori Vediamo un attimo L'Inter si ha fatto dei cambiamenti Ma non mi sembra Non mi sembra Si li ha fatti Ha messo Cristiano Zanetti A centrocampo Al posto del 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 Cacchio Del Barry No scusate Il Barry è in difesa Al posto di Un Di quello Del Colón Mi sembra Comunque l'Inter Ci prova subito Con Kili Tiraccio Un momento Prita molto Noioso Oh Recoba Spinto Giallo Giallo Arancione Attenzione Nakata Pallone Delizzo Per Recoba Recoba Entra in aria Recoba Alvaro Il tiro Antognoli C'è Finalmente Antognoli Fa una parata Perché non lo vedo mai Parare Antognoli Stiamo soffrendo Un pochino Todorov Se ne provo ad andare Cordoba è troppo veloce E Cordoba Gliela ruba Senza problemi Altesualdi Sono qui Sena Lazio 0-0 Da seguire Juventus perde Contro il Brescia 2-1 Attenzione Qui Recoba Sembrava Finita l'azione E invece no 1-0 Recoba Rivediamo il gol Zivkovic Sbaglia tutto E poi Recoba Da lì Non sbaglia Non sbaglia L'appoggia tranquillamente 1-0 Inter Ora si fa dura Si fa dura Recoba Palla per Per Kili Gonzales Non è una bella palla Salta Zenoni Con un elastico Fantastico Recoba in mezzo Il tiro Il tiro di Kili Gonzales Recoba e Kili Stanno dando Problemi serie Alla difesa Juve pareggia Con Del Piero Su due rigori Bah 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 Chievo Perugia 1-1 Ancora Torino 2-2 Sena Lazio 0-0 Entrata la Moushee Intanto Volpi Punizione Prima azione Volpi Pareggio Pareggio Immediato Un fulmine Un fulmine Di Volpi Così dal nulla Un fulmine davvero Volpi Pareggio Pareggio Samp Entrata la Moushee E l'Inter Crolla In un secondo Volpi Grandissimo Gol sopra la barriera Fortissimo Il suo secondo Gol su punizione Diretta Incredibile Samp Pareggia Diciamo Imeritatamente Il risultato Per quello che si è visto Nakata Dai 30 metri Parata così così Di Antognoli Spazza via Domizzi Parte contro il piede Kakanov Non ci crede Spazza via Volevo fare i cambi Per Dio Martins Martins È entrato anche lui Attenzione Palla per Barry 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 Palla buona per Nakata 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 Potete dare il tiro Lo fa Tiracci Nakata Fuori Fuori È messa dal fondo Per la Samp 1-1 Torniamo il pareggio Soffertissimo Giocamare Falcone Ma Mi interessa poco Non saprei cosa fare Non saprei davvero cosa fare Stanno giocando tutti bene Entrando il Falcone Aspettiamo Facciamo entrare Grandoni Tanto 3 cambi Non li fa Un cambio folle Quello che sto facendo Non fatelo mai Ma me la sento buona Grandoni E al momento Non faccio cambi Non faccio cambi Perché me la sento bene così Stiamo giocando malissimo Ma Non importa Modonna Angolo Angolo All'indietro Per la Muschino Schema La Muschino Mamma mia Ho visto Antonio Lì cadere in porta Ed è caduto Ed è caduto probabilmente Ma la palla sfiora il palo 4 minuti di recupero Finisce così 1-1 Incredibilmente Riusciamo a tenere l'Inter Guardiamo le statistiche Con noi 4 tiri Non li ho visti Non ci ho fatto vedere neanche i nostri tiri 3 tiri in porta Dove Non me le hai fatti vedere Non me le hai fatti vedere Comunque Pareggiamo Quindi La Lazio perde La Lazio perde E noi Quindi siamo al primo posto Ma Il campionato È apertissimo Ragazzi La Lazio perde Clamorosamente La Juventus pareggia Quindi per noi va bene così Soprattutto per la Roma Ma anche per l'Inter Che ora Con due partite in meno Può tranquillamente Superarci E scappare via La prossima è contro l'Ascoli Ma Giocheremo con tutte le riserve Poi Avellino Alta partita semplice Teoricamente Visto che è sedicesimo Ma vedremo Vediamo un po' Se c'è qualche Posticipo Si gioca al Milan Nono Vince Settimo Poi a fine Pausa campionato A gennaio Vi farò vedere anche le statistiche Della squista serie A E anche Ovviamente il calcio mercato Che fra poco inizierà E vedremo un po' Di chi acquistare Eccoci qua Inter-Regina Il recupero Forza Regina Dai Regina Dai Regina Ma ma giochiamo anche noi Quindi niente ragazzi Ci vediamo quindi Nel prossimo episodio Dove scopriremo Il risultato Dell'Inter E anche il nostro In copitaio Dove abbiamo già detto 3-0 Per l'andata Quindi non dovrebbe esserci problemi Grazie a tutti Alla prossima Ciao Ciao